Ed è salito subito Alessandro, Alessandro non giocherà la prova leader, così come, chi è che non lo riconosco, Marco Cucolo, eccolo. Neanche Roger giocherà la prova leader. Blind allo stesso modo esce, Roger posizionati dietro per favore, grazie, Blind. E sale anche il che ne ha Clemenze, quindi a giocarsi la prova leader è Niccolas Vaporidis. Ah no, chi è che c'è? Ancora Edoardo. C'è ancora Edoardo, perdonatemi, ho i riflessi dell'acqua, c'è ancora Edoardo in immersione, che sale ed è lui a giocare. Quindi è lui, bravo! Citazione, citazione. Bravo Edo! Ciao! Grazie.